Simone Franchini rischia di saltare il match con l'Olbia in programma sabato prossimo alle ore 16.15. Sul finire della seduta mattutina, l'ex Padova si è fermato a causa di un problema da valutare all'altezza del flessore della coscia sinistra. Dunque in forte dubbio, in pre-allarme Tuniov, centrocampo già indisponibile squizzato causa squalifica. Nel ruolo di play l'ex Inter dovrebbe essere rimpiazzato da Aloy che al momento è in vantaggio su D'Agasso. Certo di una maglia da titolare De Marco. In difesa e in attacco non sono previsti cambi. Zeman sembra infatti orientato a confermare Floriani, Pellacani, Messi che Milani. Tra i pali naturalmente plizzari davanti il tridente Merola, Cuppone e Cangiano. Dunque a centrocampo punto interrogativo Franchini in pre-allarme come detto Tuniov con Aloy e De Marco a completare il reparto. Nell'Olbia che ieri ha pareggiato 0-0 in casa con Rimini, match di recupero della quattordicesima giornata, sarà probabilmente ancora ai margini per infortunio muscolare e la centravanti Nanni nazionale di San Marino. Non sta benissimo ma risponderà presente Ragazzo. Breve esperienza nel Lanciano in B dieci anni fa per un problema alla caviglia che l'attaccante sardo si trascina da qualche settimana. Due gli ex, da una parte il portiere Ciocci, dall'altra il 36enne Daniele Dessena, che con la maglia del Pescara ha collezionato 13 presenze, realizzando tre gol in B da gennaio-giugno 2021. Nell'Olbia milita in prestito dal Cagliari il talentuoso Nicolò Cahuoti, classe 2003 abruzzese di Vasto. Infine, dopo i fatti di Lucca dello scorso 22 ottobre, Curva Nord è chiusa per squalifica. Pertanto, per il match con i Sardi, gli 804 abbonati della Curva Nord non potranno accedere in altri settori dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia. A tal proposito, la società comunica che il rateo abbonamenti non usufruito per la gara Pescara-Olbia sarà recuperato in occasione della prima circostanza utile della corrente stagione sportiva 2023-24.